Ancora Mestre. Ennesimo incidente che coinvolge un autobus. Restate a guardare il video per saperne di più. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi al canale e attivate. Una tragica ripetizione dell'incidente avvenuto una settimana fa a Mestre, che ha portato alla perdita di 21 vite, ha scosso la città della terraferma veneziana questa sera. Un autobus appartenente alla stessa società coinvolta nell'incidente precedente del 3 ottobre, la linea, è uscito di strada senza controllo, terminando la sua corsa contro il pilastro di una casa in via Carducci. Per fortuna, questa volta non ci sono stati decessi, ma i 14 passeggeri a bordo insieme al conducente hanno riportato ferite. Nessuno è in condizioni critiche. Le autoambulanze li hanno trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo, che erano gli stessi ospedali che avevano curato i feriti dello schianto del cavalcavia della Vempa. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la causa dell'incidente potrebbe essere stata la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. L'autista ha dichiarato ai soccorritori di essere stato colto da un improvviso malessere. L'autobus, anch'esso un veicolo elettrico, ha attraversato la corsia opposta mentre affrontava una curva, finendo per schiantarsi contro il pilastro di un edificio. La maggior parte dei passeggeri ha riportato solo lievi contusioni, sebbene molti siano stati colti da uno stato di shock. Il comune di Venezia aveva assegnato alla Corriera la tratta urbana precedentemente coperta dal bus numero 13 del servizio pubblico ACTV. La società madre del trasporto pubblico a Venezia, AVM, ha annunciato che dal domani, domenica 15 ottobre, sospenderà precauzionalmente il servizio di tutti i bus de «la linea», sostituendoli con propri mezzi. Questo nuovo incidente, a soli 10 giorni dall'orribile incidente del cavalcavia, ha scosso profondamente gli abitanti di Mestre. Sui social media, si sono diffusi immediatamente messaggi che riportavano la notizia dell'incidente a Via Carducci, con molte persone increduli che potesse ancora coinvolgere un veicolo elettrico della stessa società legata alla tragedia del sovrappasso della Vempa. Nel cuore della notte, le sirene delle ambulanze e dei soccorsi hanno risuonato nuovamente per le strade della città. Tutto questo avviene mentre si attendono ancora i risultati dell'inchiesta sugli 21 morti del cavalcavia, con tre persone sotto indagine, tra cui l'amministratore delegato de «la linea», per identificare le probabili cause della tragedia, dalle condizioni del conducente, a un guasto meccanico dell'autobus, fino alla tenuta del vecchio guardrail.